Non ce l'ha fatta Tommaso Fabris, il 17enne campione di basket colpito da meningite nei giorni scorsi. Il giovane morto all'ospedale di Bassano giocava con la squadra del Riese Pio Decimo. I genitori hanno deciso di donare gli organi. Raid Vandalico al Da Vinci al Palladio di Treviso. I gnoti sono entrati in azione scassinando le macchinette del caffè e alla fine hanno fatto anche i loro bisogni. Nei corridoi indaga la questura. Bande di centinaia di ragazzi che arrivano in centro a Treviso. Gli esercenti sono maleducati, talvolta violenti e fanno scappare i clienti. E così qualcuno ha deciso di chiudere l'attività il sabato pomeriggio, oggi incontro in prefettura. Espulso da scuola al 16enne e accusato di aver accoltellato il compagno 17enne sarà coinvolto in un percorso di rieducazione. Il preside abbiamo deciso per la pena più severa ma non dimentichiamo la nostra missione. Spacciava cocaina a pochi passi dalle scuole nel quartiere San Zeno. 31enne nigeriano arrestato dai carabinieri decisiva le segnalazioni dei residenti. Incidente sul lavoro in un cantiere a Istrano. Un operaio 29enne cade dall'impalcatura e vola per 6 metri. Ferito è stato portato in condizioni di media gravità al caffoncello. Comunali a Treviso, Giorgio Denardi è incompatibile con il Partito Democratico guidato da Ellie Schlein. Venga da noi, questo è l'invito del terzo polo al candidato del centro-sinistra. Olimpiadi 2026, è iniziata oggi la demolizione della pista da Bob e Eugenio Monti di Cortina. Le operazioni dureranno 70 giorni. Per l'ipotesi pattinaggio si pensa al velodromo di Spresiano. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Questi dunque i titoli di oggi, ma in primo piano come sempre il nostro sondaggio del martedì. Ecco dunque con l'aiuto della grafica, il quesito al quale vi chiediamo di rispondere quest'oggi. Ellie Schlein, segretaria al PD, rischia la scissione. Come sempre potete esprimere la vostra opinione facendo una chiamata gratuita ai due numeri che vedete in sovra. In pressione l'esito del sondaggio poi in diretta questa sera a Ring a partire dalle 21.15. La cronaca ora purtroppo non ce l'ha fatta. Tommaso Fabris, il giovane cestista di Tezze sul Brenta, è morto a 17 anni dopo aver lottato per due giorni contro una meningite batterica. Era ricoverato all'ospedale di Bassano. Un ragazzo favoloso. 48 ore con il fiato sospeso non ce l'ha fatta Tommaso Fabris, 17enne di Tezze sul Brenta, ricoverato da sabato notte nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Bassiano per una meningite batterica di tipo B. Avviata questa mattina attorno alle 10.30, la procedura di osservazione per la dichiarazione di morte cerebrale è avvenuta alle 17 di questo pomeriggio quando la famiglia ha consentito la donazione degli organi. Non è bastato in queste ultime ore il tifo degli amici fuori e dentro all'ospedale. Ieri sera in tantissimi a sostenere il loro Tommy, proprio lì fuori dalla porta della sua stanza. Stanza che la mamma di Tommaso non ha mai lasciato tenendo stretta fino all'ultimo la mano del figlio. Promessa del basket, guardia e ala, cresciuto nell'NBA Bassano, un titolo italiano under 14 con la fascia da capitano e poi le tante vittorie nell'Orange One. 31, 4 e 70, numeri del cuore, questi per Tommaso, numeri delle sue casacche che lo hanno visto mettere a segno centinaia di canestri. Questa era a casa sua negli ultimi anni, sua di suo fratello, quindi qui dove si allenava tutti i giorni. Lui veniva in bicicletta spesso accompagnato dai genitori insieme al fratello e faceva qua due o tre ore di allenamento al giorno. Poi quest'estate lui e il fratello hanno deciso di proseguire uno a Roseto e uno a Riese. A Riese la grande scommessa, la Serie C Gold che tanto sognava. L'ultimo allenamento venerdì sera assieme ai suoi compagni prima della disperata corsa al pronto soccorso. Mattede Sulbrenta non l'ha mai lasciata, giocava anche nell'Under 19 dell'NBA Bassano per continuare gli studi. Frequentava infatti il quarto anno dell'Iceo Sportivo da Ponte, un banco, quello di Tommaso, che rimarrà vuoto ma intriso del suo ricordo. Tommaso era oltre questo, nel senso che lui era uno del posto, quindi aveva il suo giro di amicizie nel basket, fuori dal basket, gli ex compagni, i futuri compagni, insomma, era credo il più conosciuto di tutti. E proprio in serata è arrivato il messaggio del The Team di Riese Pio X con la notizia della tragedia. Tommi ci ha lasciato dopo aver lottato strenamente contro un'avversaria implacabile che non gli ha lasciato scampo. Era arrivato soltanto all'inizio di questa stagione nel nostro gruppo, si legge nel post, ma ne era diventato subito parte integrante. In questo momento The Team si stringe in un forte abbraccio a Cristian, Emanuela ed Alessio. Il nostro pensiero, dice la squadra, è rivolto a loro e a Tommaso che resterà per sempre nel nostro cuore. In queste ore c'è anche il cordoglio del presidente della Federazione Italiana Palacanesso, Giovanni Petrucci, che interpretando il lutto e il dolore del basket italiano ha espresso vicinanza e cordoglio alla famiglia Fabris, al padre Cristian, alla signora Emanuela e al fratello Alessio per la prematura perdita di Tommaso. Raid in due scuole trevigiane questa notte, vandali in azione al liceo scientifico da Vinci, all'istituto Palladio, giovani distruggono le macchinette del caffè e fanno i propri bisogni nel corridoio. Indaga la polizia. Hanno preso di mira due istituti scolastici, il Palladio e liceo scientifico da Vinci. Si tratta di giovani, secondo gli investigatori, che potrebbero essere collegati all'ambito scolastico. Al Da Vinci sono entrati da una finestra rompendo il vetro, hanno distrutto le macchinette del caffè per poter rubare le monettine. Poche, visto che i distributori vengono svuotati tutti i pomeriggi. Poi non contenti, i vandali avrebbero fatto i propri bisogni lungo il corridoio. A lanciare l'allarme sono stati i propri primi addetti, arrivati questa mattina a scuola. Sul posto è arrivata la polizia che ha subito fatto scattare le indagini, in quella zona però non ci sono telecamere di videosorveglianza. Intanto l'istituto sporgerà già nelle prossime ore una denuncia contro i gnoti. Le indagini della polizia sono in corso per identificare i responsabili di questo gesto, che ha provocato danni significativi a tutte e due le scuole. Questa non sarebbe la prima volta che i vandali fanno irruzioni in questi due istituti scolastici. Bande di centinaia di ragazzi che arrivano in centro a Treviso il sabato pomeriggio. Si lamentano gli esercenti, sono maleducati, talvolta violenti e fanno scappare i clienti. E così qualcuno ha deciso anche di tenere chiusa la propria attività il sabato pomeriggio. Oggi la questione è stata affrontata anche in prefettura. Non ha senso tenere aperti. Ci abbiamo provato qualche volta ma nascono sempre problemi. Quindi abbiamo deciso di non aprire più il pomeriggio, almeno il sabato pomeriggio. Il problema è sempre quello e si ripete ogni fine settimana. Bande di ragazzini che il sabato pomeriggio occupano alcune zone del centro di Treviso, creando scompiglio, paura e costringendo alcuni esercenti a chiudere l'attività. Siamo in via Fiumicelli ed è in quest'area tra il PAM ed i giardinetti che si concentrano i bulli. I gestori del bar Ginger Ale hanno deciso di abbassare la serranda il sabato pomeriggio. Non vale la pena tenere aperto. Troppa confusione, troppi ragazzi maleducati che non rispettano il lavoro, fanno confusione e non avremo neanche clienti perché molte persone rinunciano a venire in questa zona. Dalle tre e mezza vedi proprio le flotte che arrivano. Sì, secondo tutti non fanno niente di male, però fanno paura. La gente normale, diciamo, le coppiette, le famiglie, arrivano qua, proprio le vediamo, arrivano qua e vedono, oh mamma, si girano, prendono e vanno via, perché è logico. Cioè, vedono questi ragazzini a centinaia, perché sono a centinaia, fanno paura, insomma. Una situazione, quella del quadrante di via Fiumicelli, da anni sotto i riflettori, c'è la videosorveglianza, ci sono i controlli, ma evidentemente non basta. La questione è stata oggi al centro di un incontro in prefettura. Questa mattina mi sono confrontato con il prefetto, con le forze dell'ordine, con le associazioni di categoria e devo dire che non ho avuto francamente questo riscontro. Di certo però andrò a ascoltare queste voci preoccupate di alcuni titolari di esercizi commerciali, perché se hanno manifestato questa preoccupazione è giusto che le istituzioni si facciano carico della responsabilità di migliorare la situazione. Ma, prosegue il sindaco, non parliamo di baby gang. Sono dei ragazzi, certamente che assumono dei comportamenti, talvolta sbagliato e talvolta fuori dalle regole consentite e dalle leggi, però è altrettanto vero che invece io riscontro grande vivacità in città e le attività commerciali stanno lavorando bene. Allontanamento dalla scuola e lavori socialmente utili per il sedicenne studente dell'Istituto Turazza di Treviso che giovedì scorso ha ferito con un taglierino, un compagno. Ieri pomeriggio si è riunito in maniera straordinaria il consiglio di classe, ha deciso l'allontanamento del ragazzo perché non ci sono le condizioni per poter in qualche modo garantire una sicurezza a lui, ma anche e soprattutto agli altri 800 allievi che ci sono all'interno della struttura. La scuola ha deciso per il provvedimento più severo, espulsione per lo studente sedicenne del Turazza che la scorsa settimana, utilizzando un taglierino, ha sferrato diversi fendenti ad un compagno al culmine di un litigio durante l'intervallo davanti alle macchinette del caffè dell'Istituto. Un episodio gravissimo che solo per fortuna non ha causato gravi lesioni al compagno 17enne e che il consiglio di classe ha deciso di punire severamente senza però dimenticare la funzione educativa e di recupero che la scuola deve avere. Quindi la decisione è quella di in qualche modo si dare un allontanamento che abbiamo condiviso chiaramente anche con la famiglia dell'aggressore e cercare per quanto possibile di far fare dei lavori socialmente utili a questo ragazzo in collaborazione con la comunità Murialdo con cui appunto ci siamo interfacciati in questi giorni. Nella vicenda è stato comunque interessato anche il Tribunale dei Minori. Non sappiamo come procederà il Tribunale dei Minori e quindi è chiaro che la nostra proposta anche di questi lavori socialmente utili sono collegati a quello che poi deciderà il giudice rispetto a questo ragazzo. Il ragazzo aggredito è ancora a casa una decina ai giorni di prognosi e sono costanti i contatti tra la scuola e le due famiglie coinvolte. Nel frattempo, nei prossimi giorni verranno coinvolti i genitori rappresentanti di classe e ci sarà un collegio docenti straordinario per analizzare quanto accaduto punta di un iceberg di un disagio giovanile crescente che si manifesta anche fuori dalle aule. Sono delle situazioni che si stanno sviluppando in maniera troppo frequente quindi c'è bisogno anche come agenzie educative scuola ma non solo perché da soli non riusciamo cercare di dare una risposta unendoci a questo disagio che si sta sviluppando in maniera molto molto evidente nell'ultimo periodo. Spacciava pochi passi dalle scuole i carabinieri hanno arrestato un pusher nigeriano di 31 anni si tratta del quarto connazionale arrestato dai militari per smercio di droga in città. Il blitz dei carabinieri di Treviso è scattato lo scorso pomeriggio nel quartiere Sanzero a segnalare i movimenti anomali nei pressi delle scuole alcuni cittadini che hanno allertato il 112. Immediata l'attività dei carabinieri finalizzata la prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti. In manette è finito un cittadino di origini nigeriane di 31 anni. Il pusher da tempo spacciava nei pressi di alcuni istituti scolastici poco distante da una scuola dell'infanzia e di una primaria. La trappola è scattata intorno alle 15.30 all'imbocco di via Pierandrea Saccardo in crocio con via Terraglio. Lo straniero aveva effettuato poco prima un repentino scambio con una ragazza alcuni militari hanno fermato e controllato la giovane aveva addosso due involucri avvolti in un cellofan risultati contenere frazioni di grammo di stupefacente del tipo cocaina. Poco distante è stato bloccato il 31enne che nel frattempo aveva tentato di allontanarsi dalla zona in bicicletta. Fondamentale la collaborazione tra l'arma e i cittadini le prime risultanze investigative avrebbero infatti confermato come già in precedenza in svariate occasioni spacciatore e acquirente si fossero dati appuntamento in quella zona di Treviso per l'acquisto dello stupefacente. Lo straniero già noto alle forze dell'ordine è stato successivamente posto in libertà in attesa del prosiego della sua vicenda penale. Incidente sul lavoro oggi pomeriggio pochi minuti prima delle 16 in un cantiere di Lea Istrana un operaio di 29 anni è precipitato da un'impalcatura dall'altezza di 6 metri subito soccorso dai sanitari del 118 intervenuti sul posto con l'elicottero e l'ambulanza è stato trasportato all'ospedale di Treviso nonostante il volo di 6 metri fortunatamente le sue condizioni non sono gravi sul posto per accertare cause ed eventuali responsabilità dell'incidente sono intervenuti i tecnici dello Spisal e di Carabinieri ed ora il processo Battistetti il caso del 23enne morto in un cantiere a Montebelluna che torna in aula venerdì prossimo e si sta preparando un nuovo sit-in venerdì si torna in tribunale per la seconda udienza abbiamo l'udienza alle 9.30 quindi saremo in aula per le 9.30 ma quello che più ci interessa è fuori che abbiamo già sentito che tante persone vorranno stare vicino a noi e ci ritroviamo in un sit-in alle 9 si ritorna in aula per la seconda udienza del caso di Mattia Battistetti ma si torna anche fuori dall'aula per manifestare contro la piaga degli incidenti sul lavoro dopo l'avvio del processo il 26 gennaio scorso con le costituzioni di parte civile venerdì prossimo il nuovo atto i fatti sono quelli che hanno portato la morte del giovane 23enne nell'aprile del 2021 in un cantiere a Montebelluna schiacciato da un carico di impalcatura e da 15 quintali che si era sganciato da una gru mamma Monica accanto ad amici e associazioni sta preparando il sit-in la memoria di Mattia non deve spegnersi dice tenendo in mano volantini e cartelli nella prima udienza mi hanno stimato un 200 persone quindi veramente è stata una grande vicinanza perché vedere tutte quelle persone che erano là per noi ci ha fatto molto piacere la lotta continua? sicuramente sì non ci fermiamo continuiamo l'abbiamo giurato a Mattia il giorno del suo funerale io soprattutto ho detto che farò giustizia e voglio che sia fatta giustizia voglio che chi ha ucciso mio figlio paghi noi stiamo combattendo in primis per Mattia ma anche per tanti altri Mattia che non tornano più a casa ancora dal tribunale il processo per l'omicidio di Fontana e di Villorba quando il 30 settembre del 2018 il ventenne moldavo Igor Oiovanu venne ucciso a coltellate il nuovo processo d'appello a Florin Stingaciu 39enne romeno in carcere per il delitto cancella l'aggravante dei futili motivi e condanna l'uomo a 16 anni e 5 mesi avevano estorto denaro a Don Elio Girotto parroco di Campocroce due nomadi sono stati condannati ciascuno a 3 anni e 5 mesi di reclusione avevano utilizzato la truffa della lucidatura di oggetti sacri i fatti risalgono a quasi 6 anni fa quando due nomadi padre e figlio di 60 e 30 anni si erano presentati a Don Elio Girotto spacciandosi per imprenditori lombardi avevano promesso di rimettere a nuovo diversi arredi sacri il preventivo ammontava circa 2000 euro ma i due avrebbero poi estorto a sacerdote 61 mila euro non solo ma continuavano a chiedere soldi minacciandolo Don Elio ha quindi deciso di denunciare tutto e chiedere aiuto alle forze dell'ordine il pubblico ministero aveva chiesto per padre e figlio 6 anni ciascuno per estorsione oggi il tribunale di Treviso li ha invece condannati a 3 anni e 5 mesi di reclusione inoltre gli è stata infitta una provvisionale di 10 mila euro e l'interdizione di 5 anni dei pubblici uffici Verranno celebrati domani pomeriggio mercoledì primo marzo alle 15 funerali di Alberto Chattel il regbista 25 anni morto improvvisamente venerdì scorso la famiglia ha scelto per l'ultimo saluto il campo sportivo del Silea Ragmi 1981 squadra nella quale Alberto giocava e dove allenava i giovani under 11 grande amarezza per l'imbrattamento di uno dei simboli più amati della salita che porta al Monte Grappa il crocifisso all'altezza del settimo tornante di strada General Giardino dicevano i nostri vecchi preti e capitei caveve il capeo e rispettei è uno dei numerosissimi commenti comparsi sulla pagina Facebook Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa dove Nicola Saffaronato ha postato le immagini del crocifisso al settimo tornante della strada General Giardino che porta a cima Grappa completamente imbrattato con della vernice rossa la stessa con cui è stato ricoperto il segnale stradale un simbolo caro a quanti percorrono la salita tanti sono i ciclisti questo crocifisso salutato spesso con un veloce omaggio di rispetto la notizia è rimbalzata in tutta la Pedemontana con i cittadini che si uniscono allo sdegno e all'imbarazzo per un gesto vile che tocca l'umanità la richiesta che arriva dai social è quella che se qualcuno ha visto qualcosa si faccia avanti una richiesta che va di pari passo a quella di ripulire più presto il crocifisso per ridare dignità a un simbolo che qualsiasi sia il credo di ogni persona va sempre rispettato ed ora a linea alla regia ci fermiamo per qualche istante di pubblicità tra poco eccoci nuovamente in diretta TG di Treviso andiamo a Ponzano ora dove ieri sera un centinaio di cittadini hanno protestato davanti al municipio contro la riapertura della cava Morganella il sit-in di protesta di cittadini esponenti dell'opposizione e associazioni ambientaliste sotto al municipio di Ponzano non è servito a far cambiare idea al consiglio comunale che ha votato a favore della convenzione con la società di proprietà del gruppo Grigolin che gestisce cava Morganella la cava potrà scavare per 15 anni dagli attuali 43 metri fino a 60 metri di profondità arrivando a prelevare 4,2 milioni di metri cubi di ghiaia e sabbia per un valore di 80 milioni di euro nel silenzio stanno consentendo a firmare delle convenzioni con privati che causeranno un danno alla salute pubblica di tutti noi è una cava che se realizzata con la profondità dell'autorizzazione metterà in contatto le falde acquifere più superficiali con quelle più profonde che poi sono quelle che vengono utilizzate anche per l'uso dell'acqua degli acquedotti e quindi l'acqua che arriva nei nostri lubinetti l'acqua è un bene comune è un bene da tutelare soprattutto in questi anni che viviamo di crisi idrica climatica e di inquinamento la società della cava ICGSRL aveva già il via libera della commissione di impatto ambientale e poi della regione il comune di Ponzano Veneto non poteva impedire gli scavi ha detto il sindaco Antonello Baseggio con la convenzione avremo un acconto di 150 mila euro l'anno per opere di mitigazione nei pressi del lago artificiale per quanto riguarda il pericolo di inquinamento il sindaco era assicurante la preoccupazione sulla falda e anche di questa amministrazione ricordo che la falda è unica è da meno 120 metri nel territorio di Ponzano Veneto come nei comuni limitrofi c'è un'unica falda di per sé questa falda è già dagli anni 50 che è sotto pressione quindi non cambia niente questa escavazione se avessimo dei danni sarebbero già dal 1950 circa la politica regionale ora scintille nella prima edizione del nostro telegiornale tra la consigliera regionale Vanessa Camani sostenitrice della nuova segretaria Ellie Schlein e l'ex parlamentare Laura Puppato che appoggia invece Stefano Bonaccini che Ellie Schlein possa essere una segretaria divisiva all'interno del partito democratico lo confermano le scintille tra chi l'ha sostenuta e chi invece ha votato lo sconfitto Stefano Bonaccini come Vanessa Camani e Laura Puppato ospiti a prima edizione Schlein per l'ex parlamentare Puppato non ha la medesima rappresentatività di Bonaccini quello che adesso ci chiediamo in molti moltissimi non è certo il tema della scissione che vedo come uno spaventoso anche se non improbabile o non impossibile ma insomma uno spaventoso scenario non è il caso di fare a gara chi abbia avuto a proprio favore più capi corrente del partito attacca la consigliera regionale Camani quel che è certo è che l'elettorato ha per l'ennesima volta smentito la direzione presa dalla dirigenza quando quando parliamo di dirigenza regionale dipende di chi parliamo io non sono da questo punto di vista una persona che possa essere considerata parte integrante dell'establishment insomma quando mi sono proposta come segretario politico del Veneto in diciamo difformità in differenziazione importante rispetto allo stesso Martella che ha fatto cinque legislature e che ha fatto pure la richiesta di avere il vitalizio diciamo attraverso un'azione legale insieme con Alfano credo di poter dimostrare che abbiamo decisamente due modelli di società molto diversi a quel punto gli animi si sono scaldati il segretario regionale non ha chiesto nessun vitalizio perché avendo fatto cinque legislature non ha bisogno di chiedere il vitalizio come giustamente tu sapevi mi risulta che l'unico che abbia un po' di vitalizia almeno un paio qui sia tu non ricevo nessun vitalizio dalla regione del Veneto e questa è una menzogna spuderata te lo sei fatto liquidare in contanti quando hai smesso di fare la consigliera regionale per andare a fare la senatrice della Repubblica abbiamo rinunciato ad un vitalizio di 1500 euro al mese mi scusi voglio finire 1500 euro al mese che potevo percepire dall'età di 60 anni quindi in due anni avrei recuperato quella che è stata la somma che io ho versato a favore del vitalizio che mi è stata semplicemente restituita dici quanto ti hanno liquidato dalla regione per il vitalizio quanti soldi in contanti ti hanno dato quello che valeva per due anni 40.000 euro cioè quanto 38-40.000 euro credo 38-40.000 euro quindi avrei avrei potuto con quei soldi avere a 62 anni in totale una bella sottoscrizione al PD io credo che i veneti non vadano sfruttati signore dobbiamo chiudere vi devo interrompere abbiamo finito il tempo e dovresti veramente vergognarsene e quello del senato di vitalizio scintille dunque all'interno del PD e scintille anche in vista delle prossime elezioni comunali a Treviso Giorgio Denardi è incompatibile con il partito democratico guidato da Elie Schlein venga con noi e questo l'invito del terzo polo al candidato sindaco del centro-sinistra sentiamo ci sentiamo di dire a Giorgio Denardi ci sentiamo di invitarlo a riflettere se i suoi eleati che lo sostengono che ricordo è una coalizione che va da fratto gli anni alla Schlein sono i compagni di viaggi ideali per realizzare i progetti che lui dice di sostenere perché Giorgio Denardi ricordo è un elettore del terzo polo lo ha dichiarato ha dichiarato di appoggiare il programma di Nicola Rocco e allora la domanda che ci facciamo noi tutti è cosa ci fa dall'altra parte quindi concludo dicendo da noi la porta è aperta un invito che sa di provocazione e che arriva 48 ore dall'elezione di Elislein alla segreteria del PD una svolta forse un ribaltone che sposta l'asse a sinistra troppo a sinistra per i riformatori del terzo polo che in città corrono con Nicola Rocco il PD di Elislein è un PD di sinistra è un partito che gli elettori hanno rivendicato con forza un'identità di sinistra e sono dei valori che almeno per quello che ho sentito io parlare e raccontare Giorgio Denardi quali sono i suoi sono molto diversi diversi quindi incompatibili il messaggio è talmente chiaro da sfiorare la proposta indecente è una proposta giusta una proposta che per me va con gli ideali che tutti noi abbiamo noi abbiamo degli ideali che sono liberali riformisti e popolari sono gli stessi che Giorgio Denardi ha dichiarato di avere più volte e sono molto diversi dalle persone con cui sta correndo assieme il nostro candidato sindaco è e rimane Nicola Rocco che per me è il candidato migliore per Treviso per l'idea di Treviso che ha però sicuramente anche Giorgio Denardi è una persona di valore è una persona che io stimo e sicuramente potremo lavorare assieme in maniera proficua con una messa solenne e la suggestiva carica di cavalleria sono stati celebrati oggi i funerali di Dante Benendo ultimo reduce della cavalleria in Russia aveva cent'anni e per l'ultimo grande viaggio del nostro cavaliere Dante Benendo del reggimento Savoia Cavalleria carica Savoia carica Savoia carica la carica di fronte al feretro di Dante Benendo in onore dell'ultimo cavaliere reduce di Russia l'ultimo testimone di quella cavalleria che permise alla ritirata italiana di arrivare oltre al Piave dopo Caporetto aveva cento anni il cavaliere Benendo a rendergli onore alti gradi dell'esercito di cavalleria reduci e associazioni oltre alle autorità civili che prima in chiesa e poi sul piazzale di San Liberale hanno assistito alla tradizionale cerimonia degli ordini prima della carica quello che ho avuto modo di apprezzare in occasione dell'ottantesimo anniversario dei fatti d'arme di Sbushensky è la sua gioia per il poter vestire la cravatta rossa che è il simbolo delle tradizioni di Savoia quello che sicuramente mi ha fatto sorridere dalla gioia per lo spirito che ha il contegno che ha avuto fino alla fine è quella che sembra sia stata la sua ultima memoria verbale ovvero che in questo momento non dobbiamo perdere tempo con le condoglianze ma celebrare e brindare a quello che è il suo ultimo viaggio e al reggimento Savoia Cavalleria si riteneva fortunato a poter essere uno dei soldati tornati dal fronte russo il cavaliere del Savoia Cavalleria Terzo e nella sua intensa vita ha raccontato storie e momenti indimenticabili il papà nell'ultimo periodo della sua vita giocava a carte in una vecchissima osteria che aveva adesso 102 anni soprannominata Denda e la sua cavalla in Russia si chiamava Danda e non può essere una coincidenza Buon viaggio Dante Ceri Blu Spazio Orale Notizie da Belluno e Provincia Dopo quattro giorni di ricerche ogni speranza si è spenta questa mattina è stato infatti trovato privo di vita Antonio Salina l'84enne di Celarda di Feltre che sabato mattina si era allontanato dalla casa di riposo San Giuseppe di Arziè senza più farvi ritorno l'anziano ha trovato la morte annegando nella vasca di liquami di un'azienda agricola in via Novegno non distante dalla casa di riposo un esercito di volontari oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri al soccorso alpino l'hanno cercato senza sosta anche con l'ausilio di un elicottero e di unità cinofile stamattina la drammatica scoperta la salma è stata recuperata dai vigili del fuoco e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso ed ora andiamo a Cortina dove sono iniziati questa mattina i lavori di demolizione controllata della pista da Bob per la realizzazione del nuovo impianto frattanto oggi il presidente Zai ha confermato le indiscrezioni sull'ipotesi tutta Veneta di portare il patinaggio al velodromo di Spresiano confermo che è quello confermo che non è una battaglia questo deve essere chiaro perché noi siamo una squadra affiatata Milano-Portina e come accade di solito se ci sono diverse proposte tutti ci rimettiamo una valutazione tecnico e di sostenibilità economico-finanziaria che competterà una commissione di esperti dopo la rinuncia di Baselga di Pine la pista olimpica di pattinaggio potrebbe essere realizzata al velodromo di Spresiano il più grande d'Italia il presidente Zai ha confermato le indiscrezioni di stampa questa mattina a Palazzo Balbi eppure la federazione del ghiaccio con la quale è in corso un'interlocuzione ambirebbe a questa soluzione che presenta diversi vantaggi con poco più di 43 milioni di euro questo l'investimento previsto per il velodromo potrebbero essere montate le piste di ghiaccio per un impianto che diventerebbe il più grande d'Italia per intenderci l'area interessata è quella delle cave di Mosole alle bandie la proposta in maniera corretta e rispettosa anche dei colleghi della Lombardia la presentiamo dopodiché vedremo cosa accadrà non è una prova di forza piuttosto che vada fuori diciamo dal contesto Milano-Cortina dico è meglio che resti in una delle nostre due regioni per un fatto anche di contiguità e del fatto che ci abbia creduto a queste olimpiadi a differenza di qualcun altro la notizia è arrivata nel giorno dell'avvio dei lavori di demolizione controllata della pista da Bob e Eugenio Monti a Cortina ruspe in azione dalle prime ore di questa mattina dopo la cabina di regia in Laguna realizzeremo l'impianto sportivo più iconico dei prossimi giochi olimpici invernali ha detto il commissario amministratore delegato di Milano-Cortina 2026 Luigi Sant'Andrea il nuovo sliding center oltre al Bob ospiterà Parabob Slittino e Skeleton i lavori prevedono la riqualificazione della pista Monti e dei sette ettari dell'area di Ronco oltre alla realizzazione di un memoriale diffuso che unirà simbolicamente l'Olimpiade 1956 con quelle di Milano-Cortina 2026 l'ARPA va confermato la presenza di tritolo nei campioni d'acqua prelevati il 24 e 25 febbraio scorsi nel torrente Cordevole in Val Visdende il corso affluente del Piave le cui acque avevano assunto una colorazione verde ne ha dato notizia oggi l'assessore regionale Bottacin la presenza di tritolo non ha causato moria di pesci così come appurato dalle squadre dei carabinieri forestali e dei vigili del fuoco che hanno affiancato i tecnici dell'ARPAV nelle operazioni di campionamento il tritolo non è stato riscontrato nei campioni prelevati a valle sul fiume Piave a Belluno città ora Palazzo Rosso non intende rimuovere il semaforo sul ponte degli Alpini la conferma è arrivata ieri sera dal sindaco di Belluno che durante il consiglio comunale ha risposto alla domanda di attualità del consigliere Massaro il chiarimento con la smentita categoria che è arrivato a 72 ore dalla iniziativa della FIAB che sabato ha manifestato per protestare contro la presunta decisione di Palazzo Rosso di rimuovere il semaforo che agevola l'attraversamento pedonale sul ponte degli Alpini il caso è arrivato ieri pomeriggio in consiglio comunale con la domanda di attualità presentata dal capogruppo di movimento Jacopo Massaro quali garanzie saranno assicurate ad anziani bambini e mamme e persone con disabilità con la rimozione del semaforo è un problema che non esiste frutto del pensiero dell'assessore alla mobilità che è stato mal interpretato ha esordito il sindaco De Pellegrin io personalmente non ho mai messo in discussione non ho mai fatto nessuna dichiarazione io stesso non oltrepasserei dall'altra parte quindi io non capisco questo è stata un'affermazione dell'assessore alla viabilità che ha detto a me piacerebbe una città senza semafori per avere un'abilità più scorrevole questo ha creato tutto questo pandemonio polemica rientrata e pericolo scampato per i tanti che già immaginavano lo spegnimento del semaforo in uno dei punti in passato tra i più funestati da incidenti anche gravi siamo a favore delle biciclette del dare la possibilità a tutti di muoversi nella città in perfetta sicurezza quindi io non vedo nessun problema di questo non posso essere felice perché è stato anche complicato riuscire a trovare una soluzione a quel problema molto grave mi permetto però di suggerire a questo punto che se questo è la volontà del comune forse sarebbe stato opportuno fare una smentita pubblica in modo tale che così si potesse eliminare questo fraintendimento che ha messo in agitazione veramente tante persone distretto del commercio di Feltre e Pedavena ha approvato il bando per il sostegno delle attività economiche a disposizione risorse per 105 mila euro da 1 marzo risparmio energetico dal risparmio energetico dalla riqualificazione delle sedi alla riattivazione di locali sfitti a destinazione commerciale questa è una novità speriamo che questo aiuti a far sì di vedere meno vetrine chiuse le agevolazioni saranno concesse come contributo a fondo perduto e le domande potranno essere inviate via pec già da domani primo marzo fino alla fine del mese gli attori del distretto del commercio i comuni di Feltre e Pedavena confcommercio Belluno e consulta Ascom di Feltre assicurano procedure snelle e tempi rapidi 105 mila euro il fondo a disposizione che spiega l'assessore Curto non sarà una misura risolutiva ma potrà dare un aiuto concreto alle piccole attività commerciali in un periodo storico certamente non facile Real Madrid Barcellona il classico della Liga Spagnola in diretta su Telenordest il prossimo 2 marzo il grande calcio iberico nelle vostre case il gruppo media nord-est acquisito in esclusiva in chiaro i diritti per la fase finale della Coppa del Rey l'equivalente italiana della Coppa Italia le squadre spagnole più forti impegnate per conquistare il prestigioso trofeo saranno visibili comodamente da casa grazie al gruppo media nord-est che le trasmetterà nel suo canale Telenordest da sempre votato al calcio e allo sport 5 sfide imperdibili si parte domani e poi giovedì sarà la volta del match più atteso dagli amanti del calcio il derby spagnolo per eccellenza tra Real Madrid e Barcellona ed è tutto io vi ringrazio per essere stati con noi in chiusura al solito un'occhiata alle previsioni del tempo con il nostro meteo arrivederci Entra nel mondo l'olato da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita centro del piede con servizi di podologia laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura ben trovati al meteo marzo inizia con qualche pioggia il nostro territorio infatti rimane coinvolto in una circolazione di bassa pressione il dettaglio di mercoledì sul Veneto presenza di diffusa nuvolosità con schiarite al mattino specie sui rilievi e aumento della copertura nel pomeriggio probabili dalla sera precipitazioni anche di modesta entità a partire dalla pianura e poi in estensione anche alle zone montane con neve qui oltre i mille metri clima ventoso con bora sostenuta temperature in contenuto aumento minime tra meno 1 e 4 gradi massime invece comprese tra gli 8 e gli 11 gradi all'incirca ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia all'inizio cielo poco nuvoloso dal pomeriggio e in serata saranno possibili delle precipitazioni a carattere sparso temperature minime tra lo 0 e i 3 gradi massime sui 9 11 gradi infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige dove sarà in prevalenza soleggiato piogge soltanto nella notte temperature minime intorno ai 2 5 gradi massime sugli 11 13 gradi all'incirca dal meteo per ora è tutto vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia busti tutori e protesi di arto personalizzati ortopedia e sanitaria Lolato Atreviso e Montebelluna Lolato soluzioni per star bene e l'hooo 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 l'hooo